TG 12 ben trovati, edizione di martedì 22 gennaio, andiamo a vedere subito i principali titoli della giornata. Poco più di un mese alle regionali, consegnate 24 liste per 1440 candidati al voto domenica 24 febbraio dalle 6.30 alle 22 entro mercoledì la presentazione dei sette governatori. Due giornate dedicate al mondo del lavoro, seminari e workshop alla quinta edizione delle Sardinian Job Day che si terrà a Cagliari il 24 e il 25 gennaio. Festeggiato dalla polizia locale nella chiesa di San Pietro, il patrono nazionale San Sebastiano consegnati gli encomi agli agenti più meritori. Questi dunque i principali titoli di questa edizione, lo avete sentito. Partiamo dalla pagina politica, conto alla rovescia per le elezioni regionali del 24 febbraio prossimo. Ieri i partiti hanno depositato le liste, 1440 i candidati per 24 liste. Si votano dalle 6.30 alle 22, lo spoglio comincerà solo alle 7 del mattino del 25 febbraio. Sentiamo tutti i rettagli nel servizio. Un mese e poco più ci separa dal voto del 24 febbraio. Ieri i partiti hanno depositato le liste, 1440 i candidati per 24 liste. Per il centro-sinistra, che sostiene la candidatura di Massimo Seda, sono 8 le liste collegate. Per il centro-destra ce ne sono 11 che appoggiano la corsa presidente di Cristian Solinas. Lista unica per gli altri candidati, il Movimento 5 Stelle, che sostiene Francesco De Zogus. Il partito dei sardi per Paolo Malinchè, da autodeterminazione, che sostiene la candidatura di Andrea Murgia. Sinistra sarda per Vindiceleci, 6 sardi liberi per Mauro Pili. 8 collegi, con 12 consiglieri da leggere per Sassari, 20 per Cagliari, 4 per Carbonia, 3 per il Medio Campidano, 6 per Oristano, per Olbiatempio e per Nuoro, e 4 per L'Ogliastra. Pronti dunque domenica 24 febbraio, a partire dalle 6.30 fino alle 22.00. Si voterà con un'unica scheda, con 7 riquadri, uno per ogni candidato presidente, il cui nome si trova sulla destra e il contrassegno della coalizione. A sinistra i simboli delle liste collegate, la riga su cui indicare la preferenza per un candidato consigliere. Per ogni seggio, inoltre, vige la parità di genere che obbliga la candidatura in egual numero di uomini e donne. Il voto può essere anche disgiunto, si può quindi votare un candidato presidente per una lista non collegata, contrassegnando il simbolo di lista, aggiungendo il cognome di un candidato di quella stessa lista. Tutto pronto dunque, manca solo l'ultima scadenza, quella del 24 gennaio, 14.00 giorno della convocazione dei comizi elettorali, in cui dalle 8 alle 12 si dovranno formalizzare le candidature alla presidenza della Regione, nella Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari. Ed ora una precisazione dalla direttora della struttura complessa di ginecologia, ostetricia dell'AU di Sasseri, Salvatore De Soler. Riceviamo la sua dichiarazione in risposta al servizio pubblicato ieri sulle cliniche al collasso, secondo la quale ieri mattina si sono svolte regolarmente le attività di ricovero. Lunedì mattina abbiamo l'attività di ricoveri programmati, perciò alcune pazienti erano in attesa di essere ricoverate, altre dimesse. Nessuna mancanza di posti letto, dunque dichiara il direttore. Anche per quanto riguarda la lattura di fogne si precisa che si sarebbe trattato solo di un lavandino intasato. Prendiamo atto ovviamente di questa precisazione, ne diamo conto, ma non possiamo non registrare ovviamente le proteste di una quindicina di pazienti che con valigia in mano ha atteso il ricovero. In una stanza età del terzo piano risoltasi in tarda serata con l'assegnazione dei letti solo per la metà di quante stavano attendendo. Le altre sette donne sono state rimandate a casa. Lasciamo da parte dunque questa precisazione, seminari, talk, approfondimenti e colloqui di lavoro. Questi momenti del programma per la quinta edizione del Sardinium Job Day a cura dell'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro. Spazio all'innovazione digitale, allo sport e all'occupabilità con 300 aziende coinvolte e oltre 58 mila candidature per la partecipazione. L'appuntamento è per il 24 e il 25 gennaio nello spazio fieristico di Cagliari. Ce ne parla Valeria Secchi. 25 seminari e workshop, 100 stand espositivi di istituzioni, imprese e agenzie formative, momenti di approfondimento su sport e innovazione e 9.600 colloqui con i rappresentanti delle aziende e gli operatori dei centri per l'impiego. E ai blocchi di partenza nello spazio fieristico di Cagliari, il Sardinium Job Day. Le due giornate di orientamento in programma il 24 e il 25 gennaio prevedono inoltre alcuni ospiti del mondo dello sport. Il campione di MotoGP, Loris Capirossi, lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, il Cagliari Calcio e la Dinamo Sassari. Ricca l'offerta di seminari e workshop è variegata alla platea dei destinatari, da chi necessita degli strumenti di base e competenze trasversali per la ricerca di un'occupazione, a chi vuole migliorare la propria occupabilità, fino agli studenti delle scuole superiori e delle università, per una panoramica delle professioni emergenti nel mercato. Per lavorare all'estero sono in programma incontri tenuti da esperti EURES, che daranno informazioni e consigli a chi è interessato a fare un'esperienza professionale in Europa. Articolato il programma di iniziative è previsto nell'area dedicata all'innovazione digitale. Da una parte gli interessati possono partecipare ad un percorso guidato tra gli stand del padiglione per conoscere un contesto lavorativo e un costante mutamento da avere i primi strumenti per iniziare ad orientare le proprie scelte professionali. Dall'altra è in programma Festac, una maratona di cervelli lunga sei ore per trovare una soluzione brillante al problema posto in vari ambiti di aziende che lavorano sul territorio sardo. In palio per i vincitori la possibilità di sostenere un colloquio finalizzato allo svolgimento di un periodo di tirocinio retribuito per continuare a sviluppare il progetto proposto. Ed ora siamo a Sassari, festeggiato questa mattina San Sebastiano Martire, patrono dei vigili urbani d'Italia presso il santuario di San Pietro in Silchi, nella cerimonia eucaristica presieduta da Monsignor Gianfranco Saba. In occasione dei festeggiamenti sono stati consegnati attestati ed encomi agli agenti della polizia locale di sintesi nelle operazioni del 2018. Roberto Mulas. Celebrata questa mattina la festa di San Sebastiano Martire, patrono del corpo dei vigili urbani d'Italia, la cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Pietro in Silchi alle 11, con una solenne messa presiduta dall'arcivescovo metropolita di Sassari Monsignor Gianfranco Saba, presenti le massime autorità cittadine. Al termine della funzione religiosa il comandante della polizia locale Gianni Serra ha proceduto alla consegna degli encomi e degli attestati agli agenti del comando di Via Carlo Felice, che si sono particolarmente distinti per il loro operato nel corso del 2018. In particolare sono stati consegnati e attestati a quattro gruppi di operatori distintisi in casi, brillantemente risolti, quali la rapina con coltello di Via dei Gremi e l'aggressione ai danni di un 22enne extracomunitario della Guinea, titolare di protezione internazionale in corso Cossiga, la sera del 10 settembre. Oppure ancora di atti di eroismo, tra cui il salvataggio di un giovane incometirico a cui due agenti hanno prestato il primo soccorso salvandogli la vita. Prima e due giornate di Open Day all'Istituto Tecnico Salvatore Ruiu per informare i nuovi iscritti sulla variegata offerta informativa per diventare un professionista in campo sanitario e nelle discipline di indirizzo sociale e psicologico. La scuola potrà ancora essere visitata nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì. Vediamo il servizio. Si è concluso l'Istituto Tecnico Salvatore Ruiu in Via Porcellana a Sassari l'Open Day del 12 e 19 gennaio per informare gli studenti delle scuole medie e primarie sulle varie offerte formative per diventare un professionista in ambito biotecnologico o come tecnico dei servizi sanità e assistenza sociale. Sono infatti questi gli indirizzi principali in cui si divida l'attività didattica. Nel corso delle visite guidate gli aspiranti allievi hanno potuto visitare gli attrezzati laboratori in cui sono state compiute vere e proprie analisi. Una preparazione mirata nel primo indirizzo all'iscrizione alle facoltà di medicina, biotecnologie, chimica farmaceutica, agraria, veterinaria, fisioterapia, radiologia. Nel secondo alle scienze umane e sociali, psicologia e legislazione sanitaria. L'Istituto Tecnico di Via Porcellana è inoltre il primo in Italia per iscrizione al corso serale per adulti. Una scuola all'avanguardia che per tutto il mese di gennaio continuerà a ricevere genitori e ragazzi tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario. Torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. L'emittente Canale 12 è disponibile per la vendita di spazi elettorali a pagamento in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del 24 febbraio 2019. Per info commerciale chiocciolacanali12.it o 338 222 6691 Torniamo in studio con la pagina sportiva. Maurizio Lovaglio sfida Salvatore Erittu. Un appuntamento atteso. Cinque anni. Il pugile sassarese vuole riscrivere la storia. Vediamo il servizio. Cinque anni e 29 giorni dopo Salvatore Erittu torna sul ring per incrociare i guantoni con Maurizio Lovaglio. In palio c'è ancora una volta il titolo italiano dei pesi massimi leggeri. Lo stesso è assaltato e perso in 23 secondi dal pugile sassarese il primo marzo 2014. Il 30 marzo 2019 la sfida si ripete a Sassari nello spazio promocamera. Torre Erittu vuole mettere l'ultimo accento su una carriera da superstar del ring. Vuole farlo in un match che in pieno Las Vegas style si propone come l'evento dell'anno per la Sardegna della box. Un evento grifato insula Evans, organizzato in piena sinergia con il boxing team Erittu e il sostegno di Opio 82 della famiglia Cherchi. Senza questa sfida probabilmente avrei appeso i guantoni al chiodo, commenta Erittu. Ma ora non vedo l'ora di salire sul ring e disputare quest'ultimo grande e straordinario incontro. Salire sul ring perché circa cinque anni fa ho lasciato un discorso in sospeso. Voglio riprenderlo e scrivere un altro finale a quella storia. E ritorna a Sassari il 26 gennaio la 25esima edizione del Muay Thai Explosion, la manifestazione che per gli appassionati degli sport da combattimento costituisce un eccezionale appuntamento e una imperdibile occasione. Walter Fanni. Sabato 26 gennaio alle 17 sul ring del Tarantini Fight Club di Via Venezia si svolgerà a Sassari la 25esima edizione del Muay Thai Explosion, l'ormai celebre e più longeva manifestazione italiana di questa disciplina marziale thailandese nota come l'arte dei re. Alla Muay Thai Explosion hanno partecipato nelle edizioni precedenti i migliori atleti del panorama internazionale come i campioni mondiali delle federazioni WMC, WACO e KL e ovviamente gli atleti sardi che successivamente si sono qualificati tra i migliori. Sabato in Via Venezia saranno presenti le più importanti scuole regionali di Muay Thai con le categorie fanciulli, giovanili e professionisti. E questa era l'ultima notizia per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui vi ricordo che potrete rivedere questo TG sul nostro sito, canale12.it è l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. Inoltre se siete in possesso di un decoder sky ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulla nostra pagina social, facebook, instagram, youtube e twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. A me non resta che darvi appuntamento alla prossima edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito, auguro a tutti voi un felice proseguimento di giornata. Arrivederci.